Ciao, sono Gabriella e viva Milano. Io adoro Aboka e tutti i suoi prodotti. Infatti mi è venuto in mente ma come fa Aboka ad abbinare un prodotto al nome giusto? Con quale criterio? Il nome di un prodotto cerca di descrivere e trasmettere i valori che lo rendono unico e la sua ideazione, che si chiama Naming, non è affatto semplice. In Aboka il naming di un prodotto viene condotto dal Dipartimento Marketing con la collaborazione diretta dell'Ufficio Comunicazione, ma come anche per lo sviluppo stesso del prodotto tutta l'azienda contribuisce ad aggiungere valore a questi processi. Facciamo degli esempi. Per ideare il nuovo nome siamo supportati dal Museo di Aboka, dove viene costruito un archivio di libri antichi che ci tramandano una lunga tradizione nell'utilizzo di erbe e piante officinali. Partecipano al processo di ideazione anche i nostri ricercatori, che dirigono tra i più avanzati laboratori di metabolomica e biologia dei sistemi al mondo, e i nostri medici, impegnati in numerosi studi clinici sui nostri prodotti. Come marketing non possiamo non tenere conto delle esigenze del mercato e delle persone che sono al centro di tutto il nostro lavoro. Infatti testiamo la forza del nome trovato con sondaggi interni all'azienda ed esterni. Non per ultimo ci serviamo del supporto dell'ufficio regolatorio e dell'ufficio affari legali, perché il nome di un prodotto deve rispondere a varie leggi, direttive e pratiche di registrazione. Quindi un mix di creatività, ricerca scientifica e regole ben definite a cui ci dedichiamo con grande passione ed entusiasmo per trasmettere tutto il valore terapeutico scientificamente dimostrato e la naturalità dei prodotti aboca. Un saluto a tutta la community.